E' un po' di qua. Battano Royale. Abbiamo in avvicinamento rapido. Andate nella zona sicura. Andate a qualcuno. Andate a qualcuno. Fa un buon punto. Il mercato dell'equifaccia. Fa un buon punto. 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 guarda Il punto indicato è mettere sicurezza all'aria. Grazie per la visione! 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 un nemico in volo ha puntato qualcuno non mi manco annullare un nemico in volo 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 UAPI NEMICO IN VOLO Avanzate alla prossima area e mettete in sicurezza il perimetro UAPI NEMICO IN VOLO Ragazzi in appiccinamento UAPI NEMICO IN VOLO Abbiamo perso l'obiettivo UAPI NEMICO IN VOLO 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 UAPI ÇAMANÓN UAPI NEMICO IN VOLO UAPI NVELO ci sono io ho marcato dell'equipaggiamento la zona sicura riposizionata ci sono io alla zona sicura la zona sicura la zona sicura la zona sicura Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.